Questo è un centro che raccoglie l'eccellenza della ricerca del nostro Ateneo e che però negli ultimi anni ha cambiato la sua vocazione. Parte del CAST, esattamente il piano in cui ci troviamo, è passato da un'attività di ricerca di base a un'attività sanitaria, cioè si svolgono analisi di altissima specializzazione a favore dei cittadini. È stato il passaggio al trasferimento in sanità delle famose scienze omiche, la genomica, la metabolomica, la proteomica, eccetera, che poi ci ha permesso di sviluppare diversi protocolli, per cui adesso noi serviamo tutto l'abruzzo per quanto riguarda gli screening neonatali e quasi tutto l'abruzzo per quanto riguarda i test genetici. Ma soprattutto è stata l'applicazione che ci ha permesso di creare il laboratorio Covid e far fronte all'emergenza attraverso il sequenziamento dei tamponi. Da qui è partita la caccia alle varianti del virus, giusto? Esattamente, cioè da questo piano dove ci troviamo, nei laboratori qui a fianco, abbiamo iniziato, lo ricordo come se fosse adesso, nel dicembre del 2020, la prima variante era la caccia alla variante inglese. Noi avevamo fortunatamente già prima una tecnologia molto avanzata e che ci ha permesso poi, insieme ai colleghi di ZS di Teramo, di far sì che l'abruzzo sia stata la regione più capace di identificare varianti in tutta Italia. Rettore, quanto è importante la ricerca per l'Università d'Annunzio? La ricerca è fondamentale. Allora, storicamente questa università ha sempre messo la ricerca al centro ed è tra l'altro una delle poche università italiane che finanzia direttamente la ricerca. Cioè noi mettiamo tutti in condizione di fare ricerca. Poi però bisogna essere bravi e bisogna diventare attrattivi, cioè riuscire a trarre fondi o lavorando all'interno del sistema sanitario nazionale o con i progetti di ricerca. Qui si è scelto di entrare nel territorio, di mettersi al servizio di tutta la regione con delle tecnologie, come dicevo, molto avanzate che permettono di fare diagnosi e permettono di far diventare questo centro un punto di riferimento non solo sull'Abruzzo ma anche dalle regioni limitrofe perché vengono anche da fuori. Fare ricerca. Cosa significa fare ricerca qui all'Adannunzio? L'Adannunzio è un posto ideale per fare ricerca perché, come dicevo, è sempre stata incentivata vuol dire una sfida quotidiana. Fare ricerca significa che devi svegliarti ogni mattina e c'hai un'idea. Questa è la grande differenza con gli altri lavori. Il che ha di brutto il fatto che non ti fermi mai, di bello che non ti annoi mai. Quindi la ricerca si può fare anche perché questa università ha sempre investito molto in tecnologia, noi qui abbiamo dei laboratori avanzatissimi che non potremmo avere se l'Ataneo non avesse creduto nella ricerca.